Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati sulla Old Stream Farm, quarto episodio ragazzi, guardate il vostro Robimello che cosa sta comprando ragazzi, sto comprando un po' di erbicida ragazzi, un po' tanto di erbicida effettivamente, perché è arrivato il momento di diserbare, come vedete tutti i miei campi sono seminati, stanno crescendo, ma sono tutti infestati dall'erbacce ragazzi, quindi dobbiamo andare ad estirpare appunto queste infestanti, queste erbe infestanti e lo facciamo con un po' di diserbante, un po' di erbicida e quindi mi sono regato allo shop per comprarlo, per comprarlo, allora vi dico subito che ho cambiato una mod, cioè ho cambiato un mezzo, in realtà ho lasciato il Fiat ma ho tolto quello di default e ne ho messo uno diciamo un po' sistemato, innanzitutto uno che mi dà la possibilità di scegliere il colore della cappottina perché a me piace di più con la cappottina arancione come si usa più nelle versioni italiane perché mi hanno detto che quello con la cappottina bianca non è una versione italiana, è una versione europea, c'è chi dice tedesca, c'è chi dice spagnola, però comunque ne ho visti pochi effettivamente in Italia con la cappottina bianca così e quindi ne ho comprato uno con la cappottina arancione, mi piace molto di più, poi l'hanno un po' sistemato, l'hanno fixato, hanno messo l'opportunità di metterci un pesino davanti, gli hanno messo un po' più di velocità su strada invece dei 25 all'ora come un motorino degli anni 20 finalmente raggiungiamo i 40 quindi il che è molto meglio e un attimo fatemi mettere le cinghie pure qua, ok e soprattutto gli hanno sistemato anche la potenza perché adesso l'ho sistemato e è diventato 13DT Super quindi adesso va un pochino più velocemente ok ragazzi, allora visto che sono quasi arrivato come al solito vado a salutare e ringraziare tutti quelli che hanno commentato lo scorso episodio eh come al solito siete gentilissimi, bravissimi, patatissimi allora vado a ringraziare innanzitutto ChrisNake82 poi Franco Veralli eh Fabio Campilongo, grande Fabietto eh Gregorio oh mamma mia momenti fatti addosso alla pianta raga forse non è il momento ideale questo dei salutave però io continuo a guardare il telefono eh Gianpaolo Bruna Gennaro Dauria, grande Gennarone che è sempre presente eh Blue Jeans, Farmer Girl, sempre gentilissima Farmer Girl, dolcissima un attimino che arrivo in farm, se no qui me cappotto, io lo so che qui se non tiro bene il freno me vado a cappottare ragazzi un attimino perché qui la strada è dissestata, non è facilissimo fare quello che dovrei fare ok, ehm per quanto riguarda il diserbo io lo scaricherei lo scaricherei qua dentro qua, dove ho scaricato anche le altre le altre robe, ma che era? che era? che ho preso? ho preso qualcosa di invisibile raga qui c'è una collision invisibile occhio eh raga qui ho preso una collision invisibile boh, ho preso qualcosa di strano ragazzi, comunque adesso no, aspetta, sì, no, ok ho staccato adesso vado a scaricare eh le botti, le bottine però ovviamente prima di scaricare le bottine eh tutte quante devo andare a ricaricare quella che mi serve per dare il diserbetto ragazzi perché ne ho comprata una nuova nuova purtroppo ragazzi non sono riuscito a trovare delle botti piccoline adatte a questa mappa, a questa serie quindi dovremmo usare eh quella più piccola che c'è della Hardy eh dovremmo usare quella lì anche se non è che mi piace tanto per questa serie ma purtroppo non ho trovato mh botti hold eh diciamo abbastanza funzionanti ok adesso vado indietro con questa ripiego un po' ok e vado a prendere il Fiat ragazzi eccolo qua ragazzi il Fiat che vi dicevo nuovo nuovo di Zecchetta nuovo nuovo di Zecchetta ok con la sua cappottina carina patatina eh voglio farvi vedere intanto le varie configurazioni che ha questo Fiat eh ok così capiamo insieme cosa in cosa è meglio ovviamente ve lo lascio in descrizione ragazzi così lo potete scaricare anche voi come potete vedere c'ha varie configurazioni eh tra cui il peso davanti adesso noi ci mettiamo questo da 700 kg che gli dà più stabilità il motore che passa dal 1000 eh 1000 dt al 1000 dt super dal 1300 dt 1300 dt super eccetera eccetera ovviamente eh il 1300 dt super è quello con i cavalletti con più cavalletti poi pneumatici larghi doppi pneumatici standard e stretti a noi ci serve stretti quindi ok abbiamo fatto tutte le modifiche del caso abbiamo messo anche il peso davanti eh perché la botta adesso è vuota ma dopo quando è piena ragazzi si farà sentire e come si si farà sentire occhi ai panni stesi sono sempre stesi sti panni raga non lo so perché poi andiamo a ricaricare la nostra bottina ragazzi la nostra bella bottina allora mettiamoci qua perfetto oh ho un po' ho un po' ok ok le collicio strane ok ragazzi ricarichiamo l'erbicida quella la lasciamo così perché tanto faremo più viaggi guardate già come pende un po' di più che è quasi piena ok 2200 litri ragazzi 2200 litri di erbicida iniziamo da qua perché mamma mia ragazzi le erbe infestanti le erbe infestanti ragazzi la primavera qua qua nella old stream si comincia a far sentire ok alziamo un po' il cosino dietro perfetto perché già siamo un po' bassi se poi mettiamo la cosa troppo attaccata ok accendo e vado ragazzi vado 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 con il diserbo iniziamo con il diserbo non è male sta cosa che le secca all'istante perché così riusciamo a vedere dove passare dove siamo passati e dove ancora passare sto campo qua mi sa che conviene prenderlo si pop è così perfetto è un po' strano come campo è fatto un po' strano quindi direi sì prenderlo così così qua con una botta credo che lo facciamo tutto credo e intanto continuo a salutarvi tra cui c'è Julian saluto Julian che mi dice che tra l'altro è una bella idea quella di fare tutto a una cultura perché così con i campi piccoli ho anche più resa grazie Julian sono contento che approvi questa mia scelta è il medesimo ragionamento che ho fatto anche io ragazzi piccoli campetti tanti campetti piccolini tutti con la stessa cultura e dovremmo avere comunque una resa più consistente insomma poi Gianluca poi saluto Federico Fabio Venturelli Daniele Torre che mi dice mi strappi un sorriso in questo periodo in cui ho problemi io sono molto felice Daniele di non solo di far sorridere te ma di far sorridere tutti quelli a cui riesco a strappare un sorriso è la mia mission quella di regalare emozioni positive quindi grazie ragazzi mi fate contenti quando mi dite che la mia missione riesce bene poi Simone Mattia che mi chiede se prenderò un John Deere certo che prenderò un John Deere certo non aspettatevi il 9RTX e cose varie no se si chiama così non lo so però insomma certo che lo prenderò un attimo ragazzi qui devo capire bene dove passo e dove non passo perché se no è un macello ok l'ultima strisciatina poi cambiamo campo un attimino l'ultima strisciatina e cambiamo campo perfetto ragazzi perfetto passiamo al campo vicino beh mi fa piacere che nemmeno consuma tanto erbicida sto coso nemmeno consuma tanto erbicida intanto continuo a salutare da Andre Andre Piv video gigante il mio amichetto Mauri Divi Maurizione guarda Maurizione come di serbo lo vedi come di sai che cosa sta in serbo oggi il di serbo ragazzi oggi ho in serbo il di serbo ok andiamo a estirpare anzi a seccare anche queste 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 erbacce queste infestanti su questo campo qua e continuo a salutare Claudio Vassallo che mi dice sarà una bellissima serie ci voleva grazie Claudio mi fa complimenti grazie mille poi Pietro Costamagna Andrea Butani che mi diceva che aveva un problema con l'operaio in narratura anche sulla Facebook ragazzi quel problema era dovuto alla Fall of Me ha un problema script con la Fall of Me adesso con l'ultimo aggiornamento della Fall of Me lo hanno sistemato e quindi andate alla grande andate alla grande poi Simone Gianoli che dice ma una mappa tipo la Hold con il Multifruit purtroppo piccolina come la Hold non c'è io tra quelle con il Multifruit che non sono proprio grandi 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 ti potrei consigliare la Cultura e Produzione che oppure presentato sul canale quindi nella playlist dei testemod vai la cerchi e la trovi poi Angelo poi Mandanil Tommaso Tommaso d'oro poi Pasquale Bruno Dalmasso grande anche Bruno Dalmasso che mi fa i complimenti poi il nome della mod del bruciatore mi chiedi la mod del bruciatore era beh guarda per capire il nome della mod ragazzi basta andare a vedere il testemod quello in cui l'ho nominata perché io ne no i testemod scusate Robimello81modnews perché io lì faccio sempre una bella panoramica di tutte le mod adesso ragazzi non ho tempo di andare dietro a cercare qual è la mod però se voi vedete quando faccio Robimello81modnews una mod che vi interessa segnatevela subito mettete pausa ve la segnate subito così poi ve la andate a scaricare no poi Dario Donato e Cristian Pizzarelli che mi chiede se la mappa italiana la mappa può sembrare italiana può trarre un inganno ma non è affatto una mappetta italiana però a noi ci piace perché somiglia effettivamente a una mappina italiana ok anche il campo 3 è fatto fuori no 2 4 e 2 campi 4 e 2 sono stati fatti fuori sotto col campo 3 ragazzi sotto col campo 3 dagli ed infestanti dagli ed infestanti ragazzi mamma mia sono cresciute come non lo so sono cresciute come i funghi si dice da noi dice ma non so funghi sono infestanti ho capito però da noi si dice così non è che i detti li invento io ok devo stare calmo devo stare calmo devo stare calmo poi che ve dovevo dire niente non mi ricordo più qualcosa vedo dovevo dire non lo so ah ok vi volevo dire se avete mod diciamo un po' vecchie un po' old piccolette da mettere in questa serie da suggerirmi ovviamente non è detto che se me le suggerite poi ce le metto però ecco se avete delle moddine da mettere dentro da suggerire scrivete ma lo scrivete nei commenti che poi io gli vado a dare un'occhiata e se le ritengo opportune ce le metto insomma quindi voi commentate sempre e dite sempre la vostra ragazzi che è sempre molto importante importante ok mi fermo giro vado da qua ragazzi giro giro comunque dai gli sto a far der male a sterba infestante raga gli sto a far der male ripeto questa purtroppo non è il massimo sta botte hardy però tutto sommato per questo trattore ci può pure stare perché non è non è proprio vecchissima però a vederla non è manco queste innovazioni capito quindi però avrei preferito qualcosa di più vecchietto qualcosa di più però ne ho trovato solo una ma veramente sovietica fatta brutta senza texture senza niente era un pezzo di plastica quella era troppo brutta ci vorrebbe una via di mezzo ma ancora io non ho trovato botticine oldine si dice oldine se vuoi dire oldine vabbè io lo dico sapete che Robby si inventa anche i termini all'occorrenza ok adesso c'è questo campo qua stiamo a poterci spugli praticamente raga con sto coso ok andiamo qua questo è uno degli ultimi beh oddio ultimi campi ha voglia ancora ragazzi a pedalare ha voglia a pedalare come si dice vediamo come posso prendere sto campo lo prendo per così ok infestanti non ve temo infestanti non ve temo non ve temo ragazzi ok riaccendiamo e riandiamo giù di prepotenza ragazzi perché la prepotenza in farming è tutto ragazzi nella vita no ma in farming la prepotenza un po' ci vuole allora entriamo da dentro così facciamo qualcosetta anche da dentro sapete che fanno da dentro niente lasciamo i cosini lasciamo i cespuglietti ho tolto la gps ragazzi perché sono veramente troppe mod dopo che vanno ad agire sugli script e ho paura che troppe mod che usano gli script tipo appunto questa qua dell'autodrive tipo la follow me dopo troppe mod che usano gli script troppo tutti insieme possono creare dei conflitti quindi ho deciso di togliere quelle che non ritenevo necessarie ad esempio la gps è utile e comoda ma non la ritengo necessaria quanto invece mi è necessaria l'autodrive e la follow me che per me sono adesso diventate importantissime fondamentalissime ragazzi io vi saluto direi di chiuderla qui perché non voglio che come sapete io non voglio che le serie vengono troppo lunghe se no poi voi schippate non le guardate e poi non vi voglio rubare troppo tempo quindi va bene così ragazzi io vi ringrazio che voi siete come al solito arrivati finì qua finì finì qua finì qua fino qua vi ricordo in descrizione ci sono tutti i miei social tutti i link utili ragazzi per diventare abbonati con tutti i relativi vantaggi per entrare su 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 discord per seguirmi su twitch per farmi qualche domandina sui social insomma ragazzi trovate tutti in descrizione io come al solito vi abbraccio e vi do appuntamento sempre qui sulla old stream farm ciao continua a diserbare ciao infestanti non ve temo infestanti non ve temo ciao 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 ciao